Tutti abbiamo passioni, ma stai attento, domina le passioni, prende le in mano. Le passioni non sono cose cattive, sono, diciamo così, il sangue per portare avanti tante cose buone. Ma se tu non sei capace di dominare le tue passioni, saranno loro a dominarti a te. Fermati, fermati. Grazie a tutti.